Immagino, egli è siccome immobile, non si dimentica mai. A volte mi sveglia nel cuore della notte chiedendomi dove sia e poi ricordo. Lo so che manca anche a te, ma è stata più dura per me. Oh, sto parlando a tutto sfogo, ma se uno non si sfoga di quello che prova, ti si gonfia dentro e poi esplode. E più è duro, più tutto ti si intosta. È come se ti portassi dietro questo enorme peso. Certe volte i problemi diventano così grossi che non ce la fai a sopportarli. E poi che cosa ti dici? Sì, puoi chiedere l'uomo alla chiesa, alla famiglia, agli amici, ma alla fine resti comunque con quel gran peso. Forse è per questo che voglio diventare infermiera. Sono così in sintonia con le emozioni degli altri. Credo di avere sempre avuto il dono di sapere quando qualcuno intorno a me sta soffrendo. O! Mia. Ma! Grazie a tutti.